Musica E' importante e interessante il dibattito quasi di chiusura di questo festival Shabaka sulle culture del Mediterraneo perché affronta un tema di cui si parla poco e che è questo delle vie che attraversano la Calabria, soprattutto la Calabria interna e nel caso di specie trattiamo una statale che è storica a suo modo e che viene riproposta questa sera come una delle possibilità delle vie lente, dell'attraversamento lento che quindi è un tema secondo me fondamentale sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista proprio infrastrutturale perché noi come Calabria soffriamo molto il problema dell'infrastrutturazione viaria soprattutto interna e la proposta che viene fatta al festival di questa sera a Soveria Mannelli secondo me offre lo spunto per cercare di unire volontà politiche e istituzionali la presenza del vicepresidente della giunta regionale ne è un segno con le forze culturali e con le forze anche imprenditoriali più attive che ci sono nel nostro territorio e che vanno a collegarsi in maniera diciamo quasi naturale a quelle che sono le esigenze del territorio. Grazie